Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e si fanno videoacquisti come se piovesse. Insomma, oggi, dopo tantissimo tempo, tornerò a mostrarvi i miei acquisti poracci, ovvero tutti i videogiochi che ho aggiunto alla mia collezione negli ultimi mesi. Preparatevi perché è un video ricco di acquisti, incentrato particolarmente sul DS, ma non solo. Non manca tra l'altro qualche chicchetta a tema Zelda. Quindi, come al solito, prima di iniziare vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle perotifiche e seguendomi anche su tutti gli altri social, in particolare Instagram, dove spesso posto degli aggiornamenti sulla mia collezione. Non vi basta? Beh, ci sono sempre i caffè virtuali su Ko-fi, dove tra l'altro potrete osservare i mimmini in HD per sentirvi in pace con l'universo. Perfetto. Dicevamo che sarà un video acquisti incentrato particolarmente sul Nintendo DS, ma noi della Poro Michele SPA teniamo particolarmente alla diversificazione e all'inclusività, quindi iniziamo con un titolo per PS5. Mi riferisco, ma qualcosa mi dice che già lo sapete, a Returnal. La confezione del gioco non include nulla di speciale, Switch style, e la mia recensione l'avete vista. Il titolo l'ho apprezzato parecchio, anche se credo non sia un gioco adatto a tutti e soprattutto non sia l'ideale per una line-up dove mancano ancora le vere killer application. Il prezzo piano è leggermente alto, ma io sono riuscito a preordinarlo in sconto a una sessantina di euro. Lo rifarei? Sicuramente. Il gioco mi è piaciuto tanto. Discorso diverso per questo gioco per Xbox One, ovvero la mitica Rare Replay. Si tratta di una collection storica che racchiude ben 30 titoli della software house Rare, il cui nome è stato legato per diverso tempo alla Nintendo, in particolare nel periodo del Super Nintendo e del Nintendo 64. La collection è presente all'interno del Game Pass, quindi prenderla in versione fisica è stata una cosa un po' inutile, ma in onore dei grandi classici compresi al suo interno dovevo assolutamente averla sullo scaffale. Peccato che, nonostante a livello contenutistico sia ricchissima l'offerta, la confezione della Rare Replay è in pieno stile 3D All Stars, solo un disco e null'altro. In ogni caso, questo diventa ufficialmente il terzo gioco fisico che ho per Xbox One. Ole! E chiudiamo il capitolo console fisse con un bel triangolo blu per quella che è la mia console preferita di tutti i tempi, ovvero il GameCube. E sto parlando di Red Card, un gioco che secondo me in pochi conoscono. Partiamo dalle condizioni. Il gioco è triangolo blu, quindi versione italiana e completa di tutto. Oltre alle istruzioni c'è anche un flyer, una sorta di scammata della Midway da inviare compilato per entrare a far parte della loro newsletter, un reperto archeologico di altri tempi, insomma. Il gioco, beh, appartiene a quel filone degli sportivi arcade che oggi si è perso un po' per strada. Su GameCube c'erano delle vere perle in questo stile, tra cui Mario Strikers e Sega Soccer Slam. Red Card è il più realistico del gruppo e si può riassumere come una partita di pallone dove l'arbitro fischia molto poco e ci si fa parecchio male. Poi, proprio a caso, sono presenti anche dei team speciali super trash, tipo la squadra di delfini. Bah! Red Card l'ho preso proprio perché volevo fare un video dedicato proprio a questa tipologia di giochi. Fatemi sapere nei commenti se potrebbe interessarvi. E passiamo alle console portatili. Non è ancora il momento del DS, ma iniziamo con il suo successore, il 3DS, e ho ben due sealed recuperati da eBay. Il primo è un gioco in un certo senso molto attuale, sto parlando di WarioWare Gold. Nell'ultimo TG Poro abbiamo discusso della possibilità che un nuovo episodio della saga WarioWare ritorni su Switch, un annuncio che sarebbe una vera e propria bomba. Questo per 3DS è l'ultimo gioco della serie ed è uscito nel 2018. Purtroppo non è un episodio nuovo in tutto e per tutto, ma si tratta di una collection dei 300 migliori minigiochi apparsi nei capitoli precedenti. Anche se il gioco non ha alcun valore collezionistico e tenerlo sealed non è che aumenti drasticamente il suo valore, per ora non ho intenzione di giocarlo, quindi lo tengo sigillato. Anche perché al suo interno, oltre alla cartuccia, c'è ben poco. L'altro sealed, invece, che di sicuro non aprirò, è Miitopia, anch'esso preso su eBay a un prezzo stracciato. Allora, vi racconto il motivo di questo acquisto. Incuriosito dall'arrivo della remaster su Switch, qualche tempo fa mi sono detto «Ma sai che c'è? Me lo gioco su 3DS». Riesco a trovarlo sealed per pochissimo, mi sembra intorno ai 10€, e lo tengo nel backlog in attesa di giocarlo. Poi, fortunatamente, sono stato contattato da EveryEye per ricensire il gioco e quindi mi hanno fornito una chiave per provare Miitopia su Switch. Risultato? Mi sto giocando la remaster in versione digitale, mentre questa per 3DS rimane sigillata. Chissà, magari col tempo acquisterà valore, o forse no, poco importa. In ogni caso, se vi piacciono i JRPG in versione Lite, vi consiglio di recuperare questo divertentissimo esperimento con protagonisti Mi. Ed eccoci infine al DS. Oh, finalmente! E inizio dal titolo meno pregiato, ma che avevo intenzione di recuperare da tantissimo tempo. Mi riferisco a Guitar Hero on Tour. Sapete quanto io ami gli accessori fuori di testa? In particolare quelli pensati per le console portatili. Essendo stato adolescente nel periodo di boom dei vari Guitar Hero e Rock Band, mi ricordo benissimo l'isteria che c'era dietro a questi rhythm game. E l'idea di adattare una periferica così enorme al gaming portatile su DS è secondo me una genialata vera e propria. Questa confezione è nuova di zecca. Peccato che il corriere abbia pensato di giocarci a pallone, ma vabbè. Al suo interno non solo è presente la cartuccia di gioco con tutti i flyer, ma anche la periferica pensata per trasformare il DS in una chitarra, almeno concettualmente. Questo accrocchio si inserisce nella porta pensata per la retrocompatibilità con i giochi Game Boy Advance e di base è pensata per il DS Lite. Per utilizzarla su DS Classico avrete bisogno di un altro adattatore, anch'esso compreso nella confezione. Questo però significa che Guitar Hero on Tour non si può utilizzare né con il DSi né con la sua versione XL, non essendo entrambi dotati di compatibilità con le cartucce GBA. Il gioco comunque è una vera follia e c'è anche il plettro. Prima o poi ve ne parlerò in un video dedicato. Ripeto, non si tratta di una rarità, lo trovate tranquillamente sotto i 10€, ma per me è un affascinante testimone di come le software house provavano a vendere di tutto, partorendo a volte dei veri e propri abomini. E a proposito di Rhythm Game ho recuperato anche Rhythm Paradise. Che dire, lo sto giocando per la prima volta e lo sto adorando, ma anche odiando, ma soprattutto adorando. È la prima volta che scopro questa serie e un po' mi dispiace non essermi ci avvicinato prima. Se dovessi descriverlo in poche parole, probabilmente lo definirei come il WarioWare dei Rhythm Game, completamente fuori di testa ma dotato di un gameplay semplice e immediato. Non si tratta di un gioco raro, ma la confezione ha il suo perché. Per qualche motivo lo hanno dotato di una sovraccopertina di cartone lucida bella pacchiana. Peccato che l'aver messo in copertina una modella in carne ed ossa secondo me non fa trasparire la demenzialità del prodotto. Molto meglio il chorus kid sulla seconda copertina. Al suo interno c'è anche un corposo manuale di istruzioni come piace a noi nostalgici della manualistica. Insomma, se vi capita di recuperare questa versione, a pochi euro, non pensateci su due volte. Il gioco merita molto. Sempre rimanendo in tema Nintendo DS e titoli un po' di nicchia, che però hanno fatto la storia della line-up di questa console, ho recuperato anche Another Code. Questa è la versione triangolo marrone, l'unica distribuita in Italia, e presenta le scritte della confezione del manuale in doppia lingua, sia in spagnolo che italiano. Non mi sono mai avvicinato a questo titolo, né al suo seguito uscito su Wii qualche anno dopo. Ero curioso di provare questa avventura grafica, che penso si possa tranquillamente definire una hidden gem della portatile Nintendo, un gioco non conosciutissimo, ma che ha lasciato il segno nella memoria di molti giocatori. Voi poracci, lo avete mai provato? E ci avviciniamo alla conclusione con un doppio recupero a tema Zelda. Il primo ve l'ho già fatto vedere su Instagram, e si tratta di un'esclusiva giapponese del Nintendo Club, mi riferisco a Tingle's Balloon Fight. Si tratta di un remake del classico per NES, Balloon Fight, reimmaginato con protagonista Tingle, personaggio che appare spesso nella serie di Zelda. Il titolo presenta ben tre modalità di gioco. La prima è quella originale di Balloon Fight, la seconda è una versione multiplayer di questa, e la terza è un side-scroller dove vanno raccolte le rupie senza toccare gli ostacoli. Il gioco non è mai uscito dal Giappone e poteva essere acquistato solo tramite il Nintendo Club. Al suo interno, oltre alla cartuccia, c'è anche un manuale di istruzioni, sottile ma a colori. Non si tratta di un titolo raro, ma sono felice di aggiungerlo in collezione e sono così a un passo dal completare la trilogia di Tingle. Ricercatissima! E per finire il titolo più raro tra tutti questi acquisti recenti. Ho recuperato in versione italiana anche Spirit Trucks. Mamma mia poracci, che fatica a recuperare i giochi di Zelda in questo periodo. Si è scatenata una vera e propria isteria nei confronti di questi giochi e qualsiasi titolo appartiene alla saga si fa pagare caro. La versione triangolo blu di Spirit Trucks non è di facile reperibilità. Fortunatamente sono riuscito a cavarmela con una trentina di euro, grazie a una bella botta di cubo. La confezione è perfetta, sembra nuova e completa di tutto. Anche del bellissimo manuale e dei flyer promozionali. Spirit Trucks non è di certo il miglior Zelda, anzi, ma sono comunque felicissimo di averlo aggiunto alla collezione. Prossimo step? Quel dannato Minish Cup. Ma non sarà un gioco da ragazzi riuscire a recuperarlo senza spendere cifre folli. Poracci questo era tutto per oggi, vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate questi giochi, se magari ce li avete in collezione e anche quali sono stati i vostri acquisti recenti. Mi raccomando, solo poracciato. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche in un video dove non si parla di Switch Pro. Io sono il Poro Poro, Michele Poro, Poro. Io sono dovranio per favore kendi